Cari lettori, siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di domenica 24 marzo, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal romanzo Il mandolino del capitano Corelli di Louis de Bernier, il film drammatico Il mandolino del capitano Corelli, in onda sul canale Iris alle ore 21. Dal romanzo L'isola misteriosa di Jules Verne, il film d'avventura Viaggio nell'isola misteriosa, in onda sul canale Italia 1 alle ore 21 e 20. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli. La trama del film Il mandolino del capitano Corelli. L'isola di Cefalonia subisce l'invasione dell'esercito italiano tra cui c'è il capitano Antonio Corelli che si amora della bellissima Pelagia, figlia del medico del villaggio. La guerra si avvicina e Antonio e Pelagia devono scegliere tra la fedeltà i loro rispettivi paesi ed il loro amore, per il quale dovranno affrontare enormi difficoltà e inevitabili sacrifici prima di giurarsi eterna devozione. La trama del film Viaggio nell'isola misteriosa. Il giovane Sean capta un segnale che proviene da un'isola disabitata alquanto misteriosa, poiché non riesce a distoglierlo dall'idea di precipitarsi sul posto. Il patrigno lo segue nel viaggio, insieme a un pilota d'elicottero con appresso la sua bella figliola. Una volta giunti sull'isola, i quattro si ritrovano circondati da strane forme di vita, montagne d'oro e vulcani ancora in attività, scoprendo di dover mettersi in salvo prima che un'onda sismica faccia inabissare l'isola con tutti i suoi tesori. Grazie per l'ascolto. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri.